luigi pirandello la giara piena anche per gli olivi quell'annata piante massaie cariche l'anno avanti avevano raffermato tutte a dispetto della nebbia che le aveva oppresse sul fiorire lo zirafa che ne aveva un bel giro nel suo podere delle quote a primo sole prevedendo che le cinque giare vecchie di coccio smaltato che aveva in cantina non sarebbero bastate a contenere tutto l'olio della nuova raccolta ne aveva ordinata a tempo una sesta più capace al santo stefano di camastra dove si fabbricavano al tappetto d'uomo bella panciuta e maestosa che fosse delle altre cinque la badessa neanche a dirlo aveva litigato anche col fornacciaio di là per questa giara e con chi non l'attaccava don lo lo zirafa per ogni non nulla anche per una pietruzza caduta dal murello di cinta anche per una festuca di paglia gridava che gli sellassero la mula per correre in città a fare gli atti così a furia di carta bollata e donorari degli avvocati citando questo citando quello e pagando sempre le spese per tutti si era mezzo rovinato dicevano che il suo consulente legale stanco di vederselo comparire davanti due o tre volte alla settimana per levarsero di torno gli aveva regalato un libricino come quelli da messa che il codice perché ci si scappasse a cercare da sé il fondamento giuridico delle liti che voleva intentare prima tutti coloro con cui aveva da dire per prenderlo in giro gli gridavano sellate la mula ora invece consultate il calipino e don lo lo rispondeva sicuro e vi fulmino tutti figli d'un cane quella giara nuova pagata a quattronze ballanti e sonanti in attesa del posto da trovarle in cantina fu allogata provvisoriamente nel palmento una giara così non sarà mai veduta allogata in quell'antro intanfato di mosto e di quell'odore acre e crudo che cova nei luoghi senza aria e senza luce faceva pena da due giorni era cominciata l'abbacchiatura delle olive e don lo lo era su tutte le furie perché tra gli abbacchiatori e mulattieri venuti con le mule cariche di concime da depositare a mucchi sulla costa per la favata della nuova stagione non sapeva più come spartirsi a chi badare prima e bestemmiava come un turco e minacciava di fulminare questi e quelli se un'oliva che fosse un'oliva gli fosse mancata quasi le avesse prima contate tutte a una una sugli alberi o se non fosse ogni mucchio di concime della stessa misura degli altri col cappellaccio bianco in maniche di camicia spettorato affocato in volto e tutto sgocciolante di sudore correva di qua e di là girando gli occhi i lupigni e stropicciandosi con rabbia le guance rase su cui la barba prepotente rispuntava quasi sotto la raschiatura del rasoio ora alla fine della terza giornata tre dei contadini che avevano abbacchiato entrando nel palmento per deporvi le scale e le canne restarono alla vista della bella giara nuova spaccata in due come se qualcuno con un taglio netto prendendo tutta l'ampiezza della pancia ne avesse staccato tutto il lembo davanti guardate guardate chi sarà stato oh mamma mia e chi lo sente ora don lollo la giara nuova peccato il primo un più spaurito di tutti e propose di raccostar subito la porta e andar via zitti zitti lasciando fuori appoggiate al muro le scale e le canne ma il secondo siete pazzi con don lollo sarebbe capace di credere che gliela abbiamo rotta noi fermi qua tutti uscì davanti al palmento e facendosi portavoce delle mani chiamò don lollo ah don lollo eccolo là sotto la costa con gli scaricatori del concime gesticolava al solito furiosamente dandosi di tratto in tratto con ambo le mani una rincalcata al cappellaccio bianco arrivava talvolta a forza di quelle rincalcate a non poterselo più strappare dalla nuca e dalla fronte già nel cielo si spegnevano gli ultimi fuochi del crepuscolo e tra la pace che scendeva sulla campagna con le ombre della sera e la dolce frescura avventavano i gesti di quell'uomo sempre infuriato don lollo don lollo quando venne su e vide lo scempio parve volesse impazzire si scagliò prima contro quei tre ne afferrò uno per la gola e lo impiccò al muro gridando sangue della madonna me la pagherete afferrato a sua volta dagli altri due stravolti nelle facce terrigne bestiali rivolse contro se stesso la rabbia fuoribonda sbatacchiò a terra il cappellaccio si percosse le guance pestando i piedi e sbraitando a modo di quelli che piangono un parente morto la giara nuova quattronze di giara non incignata ancora voleva sapere chi l'avesse rotta possibile che si fosse rotta da sé qualcuno per forza doveva averla rotta per infamità o per invidia ma quando ma come non gli si vedeva segno di violenza che fosse arrivata rotta dalla fabbrica ma che suonava come una campana appena i contadini videro che la prima furia gli era caduta cominciarono ad esortarlo a calmarsi la giara si poteva sanare non era poi rotta malamente un pezzo solo un bravo concebrocche l'avrebbe remessa su nuova c'era giusto zì di malicasti che aveva scoperto un mastice miracoloso di cui serbava gelosamente il segreto un mastice che neanche il martello ci poteva quando aveva fatto presa ecco se don lolò voleva domani alla punta dell'alba zì di malicasti sarebbe venuto lì in 448 la giara meglio di prima don lolò diceva di no a quelle esortazioni che era tutto inutile che non c'era più rimedio ma alla fine si lasciò persuadere il giorno appresso all'alba puntuale si presentò a primo sole zì di malicasti con la cesta degli attrezzi dietro le spalle era un vecchio sbilengo dalle giunture storpie e nodose come un ceppo antico di olivo saraceno per cavargli una parola di bocca ci voleva luncino mutria o tristezza radicate in quel suo corpo informe o anche sconfidenza che nessuno potesse capire e apprezzare giustamente il suo merito di inventore non ancora patentato voleva che parlassero i fatti zì di malicasti doveva poi guardarsi davanti e dietro perché non gli rubassero il segreto fatemi vedere codesto mastice gli disse per prima cosa don lolò dopo averlo squadrato a lungo con diffidenza zì di ma negò col capo pieno di dignità all'opera si vede ma verrà bene zì di ma posò a terra la cesta ne cavò un grosso fazzoletto di cotone rosso logoro e tutto avvoltato presa svolgero pian piano tra l'attenzione e la curiosità di tutti e quando alla fine venne fuori un paio d'occhiali col sellino e le stanghette rotte legate con lo spago lui sospirò e gli altri risero zì di ma non se ne curò si pulì le dita prima di pigliare gli occhiali se le inforcò poi si mise a esaminare con molta gravità la già rattratta sullaia disse verrà bene col mastice solo però mise per patto lo zì rafa non mi fido ci vogliono anche i punti me ne vado rispose senz'altro zì di ma rizzandosi e rimettendosi la cesta dietro le spalle don lololo che ha proprio un braccio dove messere porco così trattate ma guarda un po che aeree da carlo magno scannato miserabile pezzo tasino ci devo metter l'olio io là dentro e l'olio trasuda un miglio di spaccatura col mastice solo ci vogliono i punti mastice punti comando io zì di ma chiuse gli occhi strinse le labbra e scosse il capo tutti così gli era negato il piacere di fare un lavoro pulito filato coscienziosamente a regola d'arte e di dare una prova della virtù del suo mastice se la giara disse non suona di nuovo come una campana non sento niente lo interruppe don lolò i punti pago mastice punti quanto vi devo dare se col mastice solo cazzica che testa esclamò lo zi rafa come parlo v'ho detto che ci voglio i punti ci intenderemo a lavoro finito non ho tempo da perdere con voi e se ne andò a badare i suoi uomini zì di ma si misa all'opera gonfio di re e di dispetto e l'ira e il dispetto gli crebbero ad ogni foro che praticava col trapano nella giara e nel lembo spaccato per farvi passare il fil di ferro della cucitura accompagnava il frullo della saietella con grugniti a mano a mano più frequenti e più forti il viso gli diventava più verde dalla bile gli occhi più aguzzi accesi di stizza finita con la prima operazione scagliò con rabbe il trapano nella cesta applicò il lembo staccato alla giara per provare se i fori erano a egual distanza in corrispondenza tra loro poi con le tenaglie fece del fil di ferro tanti pezzettini quanti erano i punti che doveva dare e chiamò per aiuto uno dei contadini che sbattacchiavano coraggio zittima gli disse quello vedendogli la faccia alterata zittima alza la mano a un gesto rapioso aprì la scatola di latta che conteneva il mastice e lo levò al cielo scotendolo come per offrirlo a dio visto che gli uomini non volevano riconoscerne la virtù poi col dito cominciò a spalmarlo tutto in giro al limbo staccato e lungo la spaccatura prese le tenaglie e pezzetti di fil di ferro preparati avanti si cacciò dentro la pancia aperta della giara ordinando al contadino di applicare il limbo alla giara così come aveva fatto lui poc'anzi prima di cominciare a dare i punti tira disse dall'interno della giara al contadino tira con tutta la forza vedi se si stacca più malanno a chi non ci crede picchia picchia suona sì o no come una campana anche con me qua dentro va a dirlo al tuo padrone chi è sopra comanda settima sospirò il contadino e chi è sotto si danno date i punti date i punti e zidima si misa a far passare ogni pezzetto di fil di ferro attraverso i due fori accanto l'uno di qua e l'altro di là della saldatura e con le tenaglie ne attorceva i due capi ci volle un'ora a passarli tutti i sudori giù a fontana dentro la giara lavorando si lagnava della sua malasorte il contadino di fuori a confortarlo ora aiutami a uscirne disse alla fine zidima ma tanto larga di pancia tanto quella giara era stretta di collo zidima nella rabbia non ci aveva fatto caso ora prova e riprova non trovava più il modo di uscirne e il contadino invece di dargli aiuto eccolo là si torceva dalle risa imprigionato imprigionato lì nella giara da lui stesso sanata e che ora non c'era via di mezzo per farlo uscire doveva essere rotta da capo e per sempre alle risa alle grida sopravenne don lullò zidima dentro la giara era come un gatto inferocito fatemi uscire urlava corpo di dio voglio uscire subito datemi aiuto don lullò rimase dapprima come stordito non sapeva crederci ma come là dentro si è cucito là dentro si accostò alla giara e gridò al vecchio aiuto e che aiuto posso darvi io vecchiaccio stolido ma come non dovevate prendere prima le misure su provate fuori un braccio così la testa su no piano che giù aspettate così no giù giù ma come avete fatto la giara adesso calma 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 e si mise a raccomandare tutto intorno come se la calma stessero per perderla agli altri non lui mi fuma la testa calma questo è caso nuovo la mula picchiò con le nocchie delle dita sulla giara suonava davvero come una campana bella rimessa a nuovo aspettate disse al prigioniero va a sellarmi la mula ordinò al contadino e grattandosi con tutte le dita alla fronte seguito a dire tra sé ma vedete un po che mi capita questa non è giara questo è ordigno del diavolo fermo fermo lì e accorse a regger la giara in cui ziddima furibondo si dibatteva come una bestia in trappola caso nuovo caro mio che deve risolvere l'avvocato io non mi fido la mula la mula vado e torno abbiate pazienza nell'interesse vostro intanto piano calma io mi guardo i miei e prima di tutto per salvare il mio diritto faccio il mio dovere ecco vi pago il lavoro vi pago la giornata 5 lire vi bastano non voglio nulla gridò ziddima voglio uscire uscirete ma io intanto vi pago qua 5 lire le cavò dal taschino del panciotto e le buttò nella giara poi domandò premuroso avete fatto colazione pane con panatico subito non ne volete buttatelo ai cani a me basta che ve l'abbia dato ordinò che gli si desse montò in sella e via di galloppo per la città chi lo vide credette che andasse a chiudersi da sé in manicomio tanto in così strano modo gesticolava per fortuna non gli toccò di fare anticamera nello studio dell'avvocato ma gli toccò ad attendere un bel po prima che questo finisse di ridere quando gli ebbe esposto il caso delle risa si stizzi che c'è da ridere scusi a vostra signoria non brucia la giara è mia ma quello seguitava a ridere voleva che gli rinarrasse il caso come era stato per farci su altre risate dentro eh si era cucito dentro e lui don lolò che pretendeva tenerlo là dentro tenerlo là dentro per non perderci la giara ce la devo perdere domandò lo zirafa con le pugni asserrate il danno e lo scorno ma sapete come si chiama questo gli disse infine l'avvocato si chiama sequestro di persona sequestro e chi l'ha sequestrato esclamò lo zirafa si è sequestrato lui da sé che colpa ne ho io l'avvocato allora gli spiegò che erano due casi da un canto lui don lolò doveva subito liberare il prigioniero per non rispondere di sequestro di persona dall'altro il concio brocche doveva rispondere del danno che veniva a cagionare con la sua imperizia o con la sua storditaggine rifiatò lo zirafa pagandomi la giara piano osservò l'avvocato non come se fosse nuova badiamo e perché ma perché era rotta bella rotta no signore ora è sana meglio che sana lo dice lui stesso e se ora torno a romperla non potrò più farla risanare già era perduta signor avvocato l'avvocato gli assicurò che se ne sarebbe tenuto conto facendogli pagare per quanto valeva nello stato in cui era adesso anzi il consiglio fatela stimare avanti da lui stesso bacio le mani disse don lolò andando via di corsa di ritorno verso sera trovò tutti i contadini in festa attorno alla giara abitata partecipava alla festa anche il cane di guardia saltando e abbaiando zidima sarà accalmato non solo ma aveva preso gusto anche lui alla sua bizzarra avventura e ne rideva con gaiezza mala dei tristi lo zirafa scostò tutti e si sporse a guardare dentro la giara ci stai bene benone mal fresco rispose quello meglio che a casa mia piacere intanto ti avverto che questa giara mi costò quattronze nuova quanto credi che possa costare adesso con me qua dentro domandò zidima i villani risero silenzio gridò lo zirafa delle due luna o il tuo mastice serve a qualche cosa o non serve a nulla se non serve a nulla tu sei un imbroglione se serve a qualche cosa la giara così com'è deve avere il suo prezzo che prezzo stimala tu zidima rimase un pezzo a riflettere poi disse rispondo se lei me l'avesse fatta conciare col mastice solo come io volevo io prima di tutto non mi troverei qua dentro e la giara avrebbe su per giù lo stesso prezzo di prima così conciata con questi puntacci che ho dovuto farle per forza di qua dentro che prezzo potrà avere un terzo di quanto valeva sieno un terzo domandò lo zirafa un onza e 33 meno sì più no ebbene disse don lolò passi la tua parola e dammi un onza e 33 che fece zittima come se non avesse inteso rompo la giara per farti uscire rispose don lolò e tu dice l'avvocato me la paghi per quanto l'hai stimata un onza e 33 io pagare sghignazzò zittima vossignoria scherza qua dentro ci faccio i vermi e tratta di tasca con qualche stento la pipetta intardarita l'accese e si a fumare cacciando il fumo per il collo della giara don lolò ci restò brutto quest'altro caso che zittima ora non volesse più uscire dalla giara né lui né l'avvocato l'avevano previsto e come si risolveva adesso fu lì per lì per ordinare di nuovo la mula ma pensò che era già sera ah sì disse tu vuoi domiciliare nella mia giara testimoni tutti qua non vuole uscirne lui per non pagarla io sono pronto a romperla intanto poiché vuole stare lì domani io lo cito per alloggio abusivo e perché mi impedisce l'uso della giara zittima cacciò prima fuori un'altra boccata di fumo poi rispose placido no signore non voglio impedirle niente io sto forse qua per piacere mi faccia uscire me ne vado volentieri pagare neanche per scherzo fosse signoria don lolò in un impeto di rabbia alzò un piede per avventare un calcio alla giara ma si trattenne la brancò o fece con ambo le mani e la scrollò tutta fremendo vede che mastice gli disse zittima pezzo da galera ruggì allora lo zirava chi l'ha fatto il male io tu e devo pagarlo io muori di fame là dentro vediamo chi la vince e se ne andò non pensando alle cinque lire che gli aveva buttate la mattina dentro la giara con esse per cominciare zittima pensò di far festa quella sera coi contadini che avendo fatto tardi per quello strano accidente rimanevano a passare la notte in campagna all'aperto sullaia uno andò a far le spese in una taverna lì appresso a farlo apposta c'era una luna che pareva fosse raggiornato a una certa ora don lolò andò a dormire fu svegliato da un baccano d'inferno s'affacciò a un balcone della cascina e vide sull'aia sotto la luna tanti diavoli i contadini ubriachi che presisi per mano ballavano attorno alla giara zittima là dentro cantava squarciagola questa volta non pote più reggere don lolò si precipitò come un toro infuriato e prima che quelli avessero tempo di pararlo con uno spintone mandò a rotolare la giara giù per la costa rotolando accompagnata dall'erisa degli ubriachi la giara andò a spaccarsi contro un olivo e la vinse zittima Giavico Giavico